Tu non studi più, perché ti agiti così, facendo cosa tu stai? Se non sai cosa vuoi tu, se non sai cosa vuoi tu, se non sai cosa vuoi tu, parte! Che cos'è? Una finta questa lotta che fate, o forse, eh? O forse come si dice, solo un fuoco di Puglia, eh? Tanto per alleggerirvi un po' da quella noia che, che vi sta sguagliando, sì? Ma sì, lo so, una lotta è sempre un bello passatempo, se non altro ci dà l'illusione di sentirci in qualche mondo costruttivi, anziché fantasticare le solite cazzate, no? Musica non è soltanto di spazio ma del respiro delle pietre con le quali si è interrotto un dialogo antico oppure di udire il pronto rio di un trono lontano o il rumore di un torrente che fa rotolare i sassi ecco di cosa avete bisogno dell'arte dell'arte di tutto ciò che era bello prima che i vostri padri non distruggessero per regalarvi una Ferrari e gli architetti dell'arte 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 di tutto ciò che era bello e gli architetti dell'arte dell'arte e tutti quanti faranno parte dell'arte 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 tutto ciò che era bello muratori e palegnani e tutti quanti faranno parte dell'osteria dell'arte e l'unica violenza di voi senti per mutare le leggi giustis sarà sicuramente un bel silenzio dell'arte muratori e palegnani e tutti quanti faranno parte parte dell'osteria dell'arte e l'unica violenza di voi senti per mutare le leggi giustis Sarà solamente un bel silenzio Dell'arte Un bel silenzio Dell'arte